Prendendo sempre alla lettera quanto afferma l'Evangelista Giovanni nel prologo del suo Vangelo, con il quale l'Apostolo che Gesù amava sintetizza il profondo significato dell'incarnazione del Figlio di Dio, il Verbo si fece carne e venne ad abitare tra noi, anche quest'anno a Rappolano Terme i presepisti del Centro Culturale La Piana Giancarlo Battagli hanno incastonato la rappresentazione della Natività nel contesto storico e ambientale del territorio e lo hanno fatto questa volta fermando in un'istantanea immaginaria il paesaggio del castello di Rappolano attorniato da tutti i castelli o comunelli che con il celebre paese termale facevano parte dell'antico dominio senese, Armaiolo, Poggio Santa Cecilia, i castelli di Modanella e San Gimignanello, il nucleo storico di Serre, granaio fortificato dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Sul proscenio del presepio si potranno infatti osservare anche gli antichi stemmi di queste piccole ma laboriose comunità. Un duveroso e forse tardivo omaggio per quanto quelle lontane popolazioni, una volta gelosissime della propria autonomia, delle proprie tradizioni, dei propri confini e talvolta anche decimate da guerre e carestie, abbiano contribuito alla crescita e alla prosperità di tutto il territorio tra la Val di Chiana e il Chianti. Una scenografia immaginaria che vuole ricordare anche i 150 anni della ferrovia centrale toscana, una delle più vecchie d'Italia. Costruita la tratta Siena-Sinalunga, il treno passò per la prima volta da Rappolano l'11 settembre 1859. Il treno che poi, cento anni fa, nel 1919 avrebbe portato in paese le prime suore stimatine che, nella loro scuola materna, hanno iniziato alla fede e alla vita sociale generazioni di Rappolanesi. A loro il grazie di tutta la comunità. Maria Rosaria Granai è la scenografa del presepe di Rappolano. Ecco, come è venuta l'idea di un paesaggio così articolato per, diciamo, rappresentare il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno riguarda tutto il nostro comune, no? E allora è venuta l'idea di rappresentare tutti i comunelli che ora fanno parte del nostro comune e quindi abbiamo fatto una rappresentazione di fantasia, anche se abbiamo tentato di mettere questi paesi meglio possibile a seconda di dove sono nella realtà. E rappresenteremo anche le suore qui davanti. Come al solito raccontiamo sempre la storia di Rappolano. Ecco, quanto lavoro ci è voluto? Perché, così, si dice che abbiate iniziato presto quest'anno. Sì, a settembre. Abbiamo iniziato a settembre e come al solito il lavoro è sempre tanto. Si lavora solo la sera e quindi ci vuole tanto tempo. E allora buon lavoro. Segnaliamo inoltre gli effetti speciali di sempre, tesi a rendere più suggestivo il presepio e che vogliono aiutare il visitatore, non certo distrarlo, a contemplare in silenzio il grande mistero dell'incarnazione. Quest'anno poi a Rappolano le feste natalizie saranno ancora più animate e coinvolgenti. Oltre al grande presepe monumentale che sarà visitabile dalla notte di Natale in poi nella chiesa di San Bartolomeo al Castellare, a partire dall'8 dicembre fino a dopo l'Epifania, allestito per iniziativa dell'amministrazione comunale, del Centro Culturale La Piana Giancarlo Battagli, dell'Associazione Commercianti, dell'Associazione Settembre Rapolanese, di alcune associazioni sportive e di aziende agricole della zona, per le piazze e le vie del paese, illuminate a festa, sarà visitabile il villaggio di Natale. Franco Fè è il presidente del Centro Culturale La Piana Giancarlo Battagli. Presidente, quest'anno feste natalizie in grande a Rappolano. Abbiamo cercato di realizzare al medio questo percorso presepiale che indubbiamente è stato molto impegnativo, non solo impegnativo da un punto di vista del lavoro ma anche dal punto di vista finanziario. L'amministrazione comunale ci ha dotato di cinque casette dove noi abbiamo poi allestito parte dei nostri presepi che facevano poi anche parte dei presepi monumentali. Quindi sono tutte realizzazioni fatte da nostri presepisti. Credo che questo sia molto importante, non è che abbiamo comprato niente, le abbiamo costruite. E credo anche che sia un bel segnale per il nostro paese perché non c'è un angolo di questo paese dove non ci siano i presepi. non solo in queste cinque casette ma ad esempio mi viene in mente l'associazione Riccardo Valenti dove anche lì c'è un nostro presepi oppure i Frateres. Quindi diciamo che è stata una bella realizzazione e ci auguriamo di avere anche molti visitatori che possano poi godere anche di questi lavori che hanno fatto i nostri soci. Ecco, qui ci troviamo nel Museo del Centro Culturale La Piana Giancarlo Battagli. Questo locale è una sezione speciale dedicata ai presepi dei ragazzi delle scuole che ogni anno portano i lavori che hanno fatto con i loro insegnanti. Qua invece sulla mia sinistra c'è il museo del presepe vero e proprio con pezzi che provengono da tutte le parti d'Italia e nella grotta grande c'è anche un bel presepe che è stato realizzato da presepisti del centro. Di qua invece abbiamo poi nel salone la fiera di beneficenza e il mercatino della solidarietà e anche questo però chiaramente è un mezzo per raccogliere un po' di fondi che ogni anno destiniamo anche a opere di carità. Quindi ci auguriamo che anche i visitatori siano generosi. In poche parole, anche quest'anno, Rappolano ripropone alla grande il suo slogan di sempre i presepi di un paese e un paese nel presepio. Grazie.